Oh oh oh, ehi salve a tutti, uocikabari, benvenuti in questo nuovo episodio del The Cartoon Show 2. Oggi io ho deciso di parlarvi dell'orso Yogi, e sì, questa è la voce che ha l'orso Yogi nel cartone animato, creato dallo studio di produzione Anna Barbera, è protagonista di un po' di serie tv ed è apparso per più volta nel 1958. E sì, userò questa voce per tutto il video, per sembrare tanto stupido proprio come il grande orso Yogi, in originale Yogi Bear. Ok, nell'orso Yogi la trama è ambientata a Chellingstone, un enorme parco naturale pieno di alberi, rocce, alberi, rocce, alberi eccetera eccetera e c'è sempre un bellissimo sole. Yogi Bear, insieme al suo amico Bubu, provano sempre in tutti i modi, beh, delle idee strampalate per riuscire a rubare i cestini dei picnic di quelle persone che vanno a Chellingstone per fare i picnic, ma volte e volte Yogi ce la fa, ma poi si fa male, si pesta la testa e succedono cose veramente assurde, mamma mia che roba. Yogi è intelligente, ma molte volte fa la figura del cretino, pensa di essere sadinario, ma in realtà è un combina guai. E poi abbiamo Bubu, che è molto piccolo e non ho mai capito, ma è il fratello di Yogi? E' suo cugino? O è qualcosa di più? Sono solamente amici? Oh, non ne ho idea, non vedo questo cartanimato da tantissimi anni, infatti in realtà non mi ricordo niente, credo, boh, forse non ne ho idea. Però comunque Bubu è molto intelligente. E poi abbiamo il Ranger Smith, il Ranger Smith è il capo di Chellingstone e odia tantissimo Yogi Bear. Ehi Bubu! Ehi Bubu 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 Bubu. Ma comunque Ranger Smith cerca comunque in tutti i modi di far capire a Yogi che lui sbaglia, non bisogna rubare il cibo ai viaggiatori, non bisogna prendere ciambelle bambini. Ma Yogi se ne frega altamente perché lui è uno che mangia tanto, infatti dopo un patente grosso come una montagna gigantesca, enorme, peggio dell'Everest. Veramente qualcosa di pazzesco, non credete anche voi ragazzi? Sì, lo so, lo so, lo so. Ok, ok, ok. Comunque questo cartone animato è famoso, cioè ragazzi è veramente vecchio. Nei tempi della Pantera Rosa, boh, anche Topolino, Tom e Jerry, Looney Tunes. Cioè ragazzi, l'Orso Yogi è un programma televisivo ma veramente celebre gente, veramente, oh, tanti premi, il migliore di tutti, fantastico, mitico, 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 mitico. Davvero spettacolare. Oh, e poi sono uscite tantissime altre cose sull'Orso Yogi, come Yogi che fa un'invasione bella, Yogi sull'aereo, la grande fuga di Yogi. Yogi col Natale, Yogi Halloween, Yogi sempre Yogi. Anche se in realtà in questo cartone animato è più interessante Bubu. Ah, giusto, mi sono dimenticato in chiarità, c'è un orso femmina che è innamorata di Yogi. Non ricordo bene come cacchio si chiama, ma vabbè, Yogi ha fatto parte anche di tanti crossover con altri personaggi di Anna e Barbera. Cartone animati antichi, vecchi, che ormai molta gente non si ricorda, almeno credo, non ne ho idea. Ma sapete perché ho deciso di parlare dell'Orso Yogi? Perché non so che cacchio fare, avevo annunciato nel The Cartoon Show 2. E beh, ragazzi, due giorni fa ho visto qualcosa di molto bello. In realtà, no, ragazzi. Perché, boh, non sapevo che fare, sull'altra definizione, ho deciso di guardare per la seconda volta nella mia vita il film dell'Orso Yogi. Uscito nel 2010. Sì, che dura un'ora e ventun minuti. E questo è il film più semplice di tutti. Perché seriamente ambientato in un parco, Yogi e Bubu fanno le stesse cose nel cartone. Succede veramente poco. E il film ha fatto schifo a tanti. Però devo ammettere che in realtà a me no, perché il film si lascia guardare. A volte è un po' noioso, questo è vero. Ma devo ammettere che Yogi e Bubu, fatti in live action, ci stanno benissimo. Il pelo è fatto bene. Sono identici. E poi, ragazzi, Bubu è doppiato da Justin Timberlake. Cioè, è veramente pazzesco. Mentre Bubu è doppiato da uno dei Ghostbusters, che non mi ricordo bene chi è. Perché a me Ghostbusters non mi è mai piaciuto. Sinceramente, eh. Però, ognuno ha dei suoi gusti, ecco. Ovviamente in questo film c'è anche il signor Smith. Basta. Altri personaggi inutili. Gente strana. Non si capisce proprio niente di niente. E devo ammettere che fare questa bocce da Orso Yogi è così difficile. Cioè, capito, ragazzi? È così strano che la persona. 18 anni riesco a tenere questa voce per così tanti minuti. Ma veramente datemi dei premi perché sono a visculaccio in due. Non so che altro dire. L'Orso Yogi è un cartone animato veramente molto, 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 molto dimenticabile. Sì, ragazzi. Oh, sentite. Tutti conoscono il nome di Orso Yogi. Ma qualcuno se lo ricorda il cartone esattamente. Perché se la mente rispetto a Topolino, l'Unitunse, Tomegello, Orso Yogi è molto, molto meno famoso. Ed è così triste. Triste. Vabbè. Questo è un video inutile. Ciao, ragazzi.